E' morto sul colpo Francesco Chiappardi, il giovane 35enne di Padula, vittima di un tragico schianto in moto avvenuto ieri sera in località Santa Maria Sassano, lungo la strada che affianca il cimitero comunale. Secondo una prima analisi fatta dai carabinieri della locale stazione agli ordini del maresciallo Antonio Sirsi e i militari della compagnia di Sala Consilina, coordinati dal capitano Davide Acquaviva, potrebbe essere stato un animale a tagliare la strada al giovane motociclista. Il 35enne infatti improvvisamente per causa ancora in corso di accertamento ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato tragicamente sull'asfalto, mentre la moto è stata ritrovata in un terreno poco distante dalla strada dove il giovane padulese ha trovato la morte. Francesco, autotrasportatore per la ditta di famiglia, stava entrando a casa dove ad attenderlo c'erano la moglie e la figlia di appena due anni, quando a pochi chilometri dall'abitazione ha perso la vita. A nulla è varso l'arrivo tempestivo sul luogo dell'incidente dei sanitari del 118, che hanno potuto constatare solo il decesso del ragazzo. Sulla salma, successivamente trasportata presso l'ospedale Luigi Curto di Polla e a disposizione dell'autorità giudiziaria di Lago Negro, sarà effettuato un esame esterno prima di restituirle ai familiari. Sono due le comunità, quella di Sassano dove il giovane viveva e quella di Padula, a piangere la perdita di un ragazzo stimato e benvoluto da tutti. Grazie a tutti.